no vabbè ragazzi non potete capire la mia nottata cioè sono una traumatizzata come potete vedere dalla mia faccia ho dormito sì e no tre ore sì tre ore sono stato malissimo ho preso un'influenza tremenda in tutto ciò cioè sto partendo perché il mio compleanno voleva andare sulla neve fortunatamente sto leggermente meglio ma per modo di dire no ragazzi non potete capire quanto sono stata male stanotte ma lo vedete ma so che è una cosa che sta girando vero quanti di voi stanno a letto con l'influenza che se intestinare o che sia febbre raffreddore mal di gola e chi più ne ha ne metta io l'ho presa tutte quindi starevi lontana e comunque non mollo è il mio compleanno quindi adesso da fare la valigia no non è il mio compleanno oggi il mio compleanno è il 15 però volevo andare un po sulla neve così per festeggiare poi fare la festa il mio ritorno ma ragazzi mi diranno con memoria di certi è partire un'influenza così pesante ma da ieri sera che mi esplosa da ieri che troppo male però sono andata a fare la valigia giocosi finito in realtà sto per partire sto preparando e ma c'è un'influenza così pesante ma c'è un'influenza così pesante ma c'è un'influenza così pesante bravo ma c'è un'influenza così pesante ma c'è un'influenza così pesante Widebot certi